Gentili telespettatori, buona giornata. La Schlein diventa un po' il Salvini di una volta, quello con le magliette, ve lo ricordate? Anche la Schlein adesso si presenta con le magliette, diventa una fans dei sindacati perché si presenta alla manifestazione con un tanto di maglietta e punta sull'asse con la CGL, sarò sempre al vostro fianco, sempre e comunque. Sarò sempre al vostro fianco non ha senso, come capo di un partito politico puoi essere al fianco di un sindacato quando dice delle cose sensate e devi prendere le distanze quando le cose non sono sensate. Questa fedeltà assoluta al sindacato mi sembra un po' assurda, anche perché se oggi abbiamo in Italia il lavoro povero, di chi è la colpa? Di chi ha governato gli ultimi 30 anni, destra e sinistra, e del sindacato. Chi si occupa dei contratti dei lavoratori? Il sindacato, quindi vuol dire che propriamente non ha funzionato, quindi tutto questo sarò sempre al vostro fianco, mi sembra un po'... dovrebbe essere al contrario, i sindacati sempre al fianco del PD, ma non il PD sempre al fianco dei sindacati, è quasi come se comandassero i sindacati. E ai militanti in corteo dice so che c'è da ricostruire una fiducia. Beh, se c'è oggi il lavoro povero ha voglia di ricostruire la fiducia, cioè per ricostruire la fiducia devi far alzare gli stipendi. Chi? Il sindacato, quello a cui tu dici sarò sempre al vostro fianco. Ecco, quindi cercate di far salire i contratti, perché il sindacato che ha in mano la contrattazione nazionale, non il governo. Quindi chi non ha funzionato in questi ultimi 30 anni, assieme ai vari governi, il sindacato. La lotta paga sempre, è la maglietta che si è messa la Schlein. La lotta paga sempre. Siamo sicuri di questa frase? Lottare paga sempre, dipende cosa si intende per lottare. Così c'è scritto sulla t-shirt con il logo della FIOM che le lavoratrici della saga Coffee regalarono a Ellie, Ellie per gli amici. Dopo il salvataggio dell'azienda di Gaggio Montano, arrivato dopo 100 giorni di dure iniziative sindacali. Una fabbrica simbolo dell'Appennino che si spopola. Dove lavoravano oltre 220 persone, l'80% donne. La Schlein in quel periodo si era spesa molto in veste di vicepresidente dell'Emilia Romagna. Lei è orgogliosa di quella maglietta e di quella battaglia. Così dice vado a Bologna, mi metto la maglietta, parto con lo zainetto e divento una del sindacato, sempre con voi. E così non ci ha pensato due volte. Bene, sempre a fianco del leader della CGL Maurizio Landini. Ma attenzione, c'è una cosa che non torna, o meglio, una cosa un po' strana. La Schlein a fianco dei sindacati, ma i lavoratori non sono coi sindacati, o perlomeno. Oggi i lavoratori che sono coi sindacati sono pochissimi. Una volta, quando tu arrivavi in un'azienda, eri quasi obbligato a iscriverti ai sindacati. Come non ti iscrivi? Non ti iscrivi ai sindacati? Ecco, io ricordo questo tanti e tanti anni fa, negli anni 90. Quando arrivavi in un'azienda, cioè, era strano se non ti iscrivevi al sindacato, era quasi automatico. Fai il contratto e poi ti dicono guarda, iscriviti al sindacato. Bene, oggi non è più così. Oggi sei tu che se vai in un'azienda e dici vorrei iscrivermi al sindacato. Sindacato? Quale sindacato? Ecco, pertanto il PD è a fianco dei sindacati, ma né PD né sindacati sono al fianco dei lavoratori, o meglio, i lavoratori non sono più al fianco di questi due partiti, perché per il PD gli ultimi non sono più gli operai, sono diventati clandestini. E il sindacato che cosa fa? Semplicemente quando decide con le aziende di rinnovare il contratto, dopo che è scaduto un bel pezzo, e già questo vi fa capire tante cose. Quando il sindacato non rinnova il contratto con l'azienda è perché sono d'accordo, ma il sindacato doveva essere d'accordo con i lavoratori, non con le aziende. il contratto di lavoro va rifatto prima che scade, in modo che alla scadenza è già automatico il mese dopo il rinnovo. Invece no. Passano anni a volte e questo vi fa capire che c'è una convinvenza tra sindacato e aziende, quello che non dovrebbe essere. Vi ricordo che in quei paesi chiamati in via di sviluppo, quelli anche chiamati del terzo mondo, sindacati e azienda sono la stessa cosa. Il sindacato è l'azienda e l'azienda è il sindacato. Una farsa. Oggi a me sembra molto, visto che abbiamo gli stipendi da paese in via di sviluppo, secondo me abbiamo anche un sindacato da paese in via di sviluppo. Pertanto abbiamo le aziende che sfruttano i lavoratori con contratti da fame, abbiamo i contratti da paese in via di sviluppo e abbiamo anche i sindacati da paese in via di sviluppo, da terzo mondo. Ecco, solo che non è bello dire, è più bello dire paese in via di sviluppo. Dice, ah sì, è in via di sviluppo, da duemila anni, sì. Bene. Quindi né il PD rappresenta più i lavoratori, nelle fabbriche, negli uffici, né anche il sindacato. Quindi loro sono uniti, PD e sindacati, ma non ci sono i lavoratori che li seguono. Sì, nelle manifestazioni c'è sempre un gruppo che va lì di persone, ma non è più il sindacato di una volta e non è più il PD di una volta. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra un'oretta, 50 minuti. Ricordatevi che poi c'è anche la pagina di Facebook Tele Italia, anche se Facebook cerca di tenerla nascosta il più possibile, c'è. Grazie a tutti e rivederci a presto.